Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e P1 Variante e per perdita di carico tra Incidere, Gello e Firenze e Sud, tutto in direzione nord. Carreggiata opposta, troviamo coda e attratti per traffico tra Roncovilaccio e Baldarno e tra Badia e Aglio. Ci spostiamo sulla Firenze Mare in direzione Firenze, coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola, verso Pisa, coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Oest. Infipilì per traffico, code in uscita a San Mignate e alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Alghero delle 21.15, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 21.45. Muoversi in Toscana Infi, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!